ciao grazie 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 abbiamo fatto la colazione e adesso riprendiamo da un'altra parte per favore in questo momento stiamo andando sul big bus che è un bus che ci farà visitare un po tutta new york quindi adesso vi faremo vedere un po di clip dei grattacieli giganteschi di robe belle vai col super montaggione siamo scesi un attimo dal pullman e ci siamo fermati qua a mangiare cioè a prendere qualcosa da mangiare perché a frederick c'ha il cagotto eh che divertimento mi sa che è stato tipo il sabroso oppure l'hot dog da un dollaro o la pizza da un dollaro e anche abbiamo già mangiato un sacco di altro cibo spazzatura sì ora capisco perché un sacco di americani sono grassi in questo momento ci troviamo al color factory che non ho capito bene cosa sia perché david mi ha detto è bello andiamoci quindi adesso vi spiega meglio lui ovviamente prima di andare a new york a new york cosa cosa fa qualsiasi persona cerca su google cosa fare a new york posti belli esatto belli belli mi è venuto fuori questo color factory allora cosa ho fatto sono andato a vedere il sito ed era una cacata cioè il sito è una cosa orribile fa schifo hai visto il sito no fortunato a te però poi ho cercato delle immagini su google era figo era una cosa assurda era assurdo c'era un mare di assurdo palle blu assurdo e in più e in più c'era questa immagine qui ok vedete è cibo gratis quello e allora ho detto beh dobbiamo andarci poi il cos'è in realtà non l'ho ancora capito adesso si neanche io dovevi registrarti e prendevi una tessera e con quella tessera tu la scannerizzavi tipo c'erano delle fotocamere che ti facevano le foto era era figo era figo ah e inoltre pensavo che le foto fossero di qualità bella cioè venissero fuori delle foto belle una m***a vai vai col video vai 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 torna video e c'è il gelato gratis mangiare il gelato è stranissimo è farina gelato con la farina sopra ma non è gelato è tipo pasta si è pasta gelatosa è stranissima però è buono ho appena scoperto cos'è questa cosa non è gelato si chiama mochi prendi la carta verda mettila lì mettila là no non lì non lì ecco fatto grazie david guarda il tuo car scannaggio per il 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 scannaggio bella bella start quello che vedete dinanzi a voi è un tipico cinquantenne all'utilizzo di un dispositivo mobile tecnologico il touch è il suo peggior nemico come vedete utilizza le punte degli indici per scrivere guardate che divertente com'è soddisfatto delle sue abilità che bravo tac tac visto è una prova di velocità e ora vediamo se ci arriva ah prende scannerizza si molto bravo ci hai messo poco tempo sono solo andati via tutti quanti nel frattempo non li ho mai mangiati questi uno c'è il cibo c'è cibo gratis si ho capito ma c'è cos'è che oddio è molto è macarons sono è mollo si sono macarons è mollo è mollo buono no non è come posso provare a cagare ah praticamente scegli uno caso scegliere un bottone che ci piace di più esatto beh il bianco madonna che tristezza a me piace eh non lo so prenderò il giallo non ho capito nulla sto capendo un c***o qua ti drogano c'era della droga in quel mozzo e mi hanno messo di qua con david dall'altra parte della finestra non capisco cosa dobbiamo fare ma quanto sei inquietante ho paura perché io non io non so nulla d'inglese e loro parlano veramente velocissimo e quindi non capisco nulla e boh lo stai facendo ok ok grazie c'è il mio xilofono che fa un rumore strano non capisco cosa sia si quello puoi anche lasciarlo qui non è tu basta basta secondo me c'è la tipa che sta impazzendo immagini tutto il giorno non stare qua così aspetta vediamo se vediamo se funziona anche il mio fa un suono strano ma che c***o è chi sta ridendo di là c'è qualcuno che ride cos'è sto oddio ma c'è un sembra un film un party una porca vac ma sei un bastardo grazie ti ringrazio per avermi fatto la palla in faccia la palla scusa la porta quella porta nella faccia grazie ho fatto le palla in faccia ok cos'hai? hai capito qualcosa? c'è da scannerizzare per entrare e mio fratello mi ha fregato la carta ah potevi entrare da mezz'ora la tipa mi ha anche sgridato perché mi ha detto dovresti tenere la tua carta grazie fraderick grazie sempre il migliore ok sono riuscito a recuperare una carta cos'è sta roba? cos'è? no e invece si è chiuso eh? che c***o ha detto? no cos'è? una foto non capisco aia grazie 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 mille c'è da mangiare c'è da mangiare buono ma che aranciano cos'è? è buonissimo è lampone ah lampone sì ma non ci si vede eh muoviti devi girare muoviti muoviti e ti fa vedere la foto no ma perché usi la mia carta? voglio io la mia carta ma che roba è? figata quando c'è la carta èkilata guardate 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 apply fredare metastas valore no cantic no i i hanno ho 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 E' assurda sta cosa Non so perché ma mi sento veramente tanto a mio agio in questo momento Ma anche tu hai fatto la pipì Buttati fuori e fai scago alla gente Vai Wow che scago Sono morti di infarto E' la stanza del clickbait questa Ma potevi mangiarne solamente uno Potevo Ma non l'ho fatto Siamo appena usciti dal Color Factory Incredible Mega April Super Snacks Comunque follower della settimana Il follower della settimana esatto Il follower della settimana è Michele Complimenti Michele Bravo Saluti da New York Comunque adesso passo la parola al David del futuro Perché io non so cosa dire Ciao 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 Come va amici? Ciao